A Caltanissette i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un sessantenne in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Caltanissette, ufficio esecuzioni penali. Il provvedimento riguarda i reati di tentata violenza sessuale e minacce. L'uomo che è stato condannato con una sentenza emessa nel corso dell'anno deve scontare una pena residua, complessivamente un anno e otto mesi di reclusione.